Aveva smarrito il portafoglio con centinaia di euro all'interno, ma dopo oltre due mesi, grazie all'intervento della polizia locale, ne è ritornata in possesso. È quanto accaduto ad una signora di 67 anni di città di Castello, che nei pressi dell'ufficio anagrafe del comune, in via 11 settembre, lo scorso mese di gennaio aveva perso il borsellino e quanto in esso contenuto. La donna aveva dunque presentato denuncia alla polizia locale, guidata dal comandante Emanuele Mattei. Gli agenti così hanno fatto partire le ricerche. Attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, hanno individuato una donna immortalata mentre raccoglieva il portafoglio. E fin qui nulla di male, se non fosse che la signora in questione di 63 anni, il portafoglio se l'era poi tenuto con tutti i contanti in esso contenuti. Quest'ultima è stata rintracciata dalla polizia. La donna, denunciata, ha ammesso di essersi pentita e si è resa disponibile a restituire il denaro alla persona offesa. La 67enne ha così ritrovato il portafoglio e anche il sorriso. Una storia lieto fine, ha sottolineato l'assessore Tifernate Rodolfo Braccalenti, che ha ringraziato il comandante Mattei e il corpo di polizia locale per l'ottima e costante attività di controllo e di vicinanza ai cittadini.